Altino, borgo di 3000 anime, incastonato tra le valli dell'Aventino e del Sangro, si prepara ad accogliere il 14esimo Festival del Peperone Dolce, un'esperienza non solo culinaria ma anche culturale. Otto contrade si sfideranno in una emozionante competizione gastronomica. Nella settimana del Ferragosto, venerdì 18 e sabato 19, Altino si trasforma nel palcoscenico di questo festival annuale che richiama gli amanti del buon cibo e della tradizione. Le contrade, guidate dallo chef Ermanno Di Paolo, hanno creato menù in cui il peperone dolce di Altino è protagonista. Dai primi ai secondi e ai dolci, ogni piatto esalta il sapore autentico del prodotto tipico locale. Ad ogni menù è abbinata una selezione di vini abruzzesi e non mancheranno le bollicine. Oltre alla cucina, il festival offre una ricca cornice di folclore. Ogni contrada dà vita ad un'atmosfera contadina con balli, canti e scene agresti. L'ingresso al centro storico è un'immersione immediata nella cultura e nella tradizione. L'organizzazione assicura 2.000 posti a sedere, punti vendita dell'europeperone per l'acquisto dei menù e servizi di pagamento elettronico. La competizione culinaria assegnerà tre premi. Ogni contrada concorre per il palio culinario, la ricetta d'autore e il premio del folclore, ai quali quest'anno si aggiunge il miglior costume in memoria di Maria Tamburrino, contradaiola molto attiva nel folclore del festival. La produzione del peperone dolce di Altino sta crescendo grazie all'impegno dei produttori locali. Un appello è rivolto ai giovani affinché portino avanti questa tradizione.